Milano, rinascente, siamo in una location glam per un brand altrettanto insieme a Sandra Nassima, founder di De Pura Vita. Parliamo della filosofia sia di produzione che di lifestyle. Ciao, sono Sandra, fondatrice di De Pura Vita, primo cold press juice company in Italia, che è tradotto come succhi prestato a freddo. E quindi sono prodotti tutti biologici, chilometro zero? Sì, allora questa è stata la mia filosofia sin dall'inizio. Quando abbiamo cominciato ho sempre voluto usare migliore materia prima, made in Italy, e oggi abbiamo anche la nostra coltivazione biologica, circa il 60% di materia prima viene usata per fare i nostri succhi, coltiviamo noi. Quali sono i prodotti, come si articola la gamma? Tutti i succhi sono stati studiati da una nutrizione istolistica, quindi non sono qualsiasi mista di frutta verdura. Ogni succo sopporta un organo secondo la medicina cinese tradizionale. E quindi è un approccio sia mentale che fisico? Sì e no, fisico perché in una bottiglia di succo c'è un chilo di frutta verdura cruda che non potresti mangiare in un pasto. Quindi noi prendiamo migliore materia prima, lo spremiamo e poi diamo questo succo che ti dà tutti i vitamine, sali, minerali. Per questa occasione, per questo evento, quali sono le novità e quali saranno le novità in futuro? Ci sono tante novità, per questo evento abbiamo lanciato la nuova linea tisane e superfood, che anche i shot, vitality shot, che ad oggi solo uno, però saranno sei. E la più grande e importante novità è che abbiamo studiato una nuova intera linea che si chiama SuperJuice, sono succhi funzionali che lanceremo al mese di maggio con un Surprise Partner Gidio. Ok, quindi il canale di riferimento sarà la grande distribuzione. Sì.